Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi ascolteremo nell'Avangelo della Domenica il brano bellissimo a cui io sono molto legato degli operai inviati a lavorare nella vigna. Due cose molto semplici. Che cosa fa Dio tutto il giorno? Va in giro a cercare persone per poter offrire loro tutta la dignità e la bellezza del vivere quella giornata. Senza quel denaro che si guadagna queste persone non hanno da mangiare per loro né per la loro famiglia. Quindi Dio passa tutto il giorno a guardare come offrire bellezza, felicità a tutte le persone dall'alba fino al tramonto. Per noi che cosa vuol dire invece? Vuol dire essere capaci di gustare non solo quello che hai dato a noi ma anche quello che hai dato agli altri con la consapevolezza che nella misura in cui anche noi possiamo collaborare alla felicità degli altri di fatto possiamo diventare più felici anche noi. Questa frase finale, tu sei invidioso perché io sono buono, è una frase terribile perché tocca il cuore di Dio, tocca la sua essenza, tocca il suo essere, tocca il suo amore per noi. Allora è questa la più grave mancanza di fiducia che noi possiamo avere da cui si guarisce appunto cercando anche noi di non essere invidiosi ma di gustare il bene che Dio dona agli altri e di gustare anche il fatto che siamo noi a tenere aperta l'azienda nella quale altri possono essere invitati. Cosa vuol dire esistenzialmente? Che tante volte cose che noi facciamo non possiamo trovarne il senso nella nostra vita ma lo troviamo anche perché si diffonde nella vita degli altri. Buona domenica.